Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video che sono XIUDER! E ragazzi anche oggi tutte le news di Fortnite ve le vado a dire e sono veramente incredibili in quanto nelle ultime ore sono stati scoperti degli aggiornamenti che lascerebbero intendere il futuro del gioco soprattutto per quello che riguarda la season XI e la modifica della mappa in verticale non voglio non voglio anticipare non voglio anticipare nel video di oggi parleremo di una probabile mappa a strati sembra pazzesco da dire così ma voglio farvi vedere quello che hanno scoperto nei codici sorgenti vedremo anche le nuove skin appena decriptate da qualche ora relative niente poco di meno che agli alieni e come sempre ragazzi una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati col dietro le quinte del nostro battle royale preferito prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano ogni giorno il mio codice creator XIUDERONE grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live sia qua che su twitch ma prima vedevo la domandina raga dai anche ieri mi avete risposto in tantissimi alcuni hanno detto che era meglio il tac altri hanno detto che era meglio il combat shotgun ragazzi insomma non avevo dubbi che foste tantissimi a dirmi la vostra e allora voglio che rispondiate a questa domanda col cervello secondo te cosa succederà nell'evento del rocket e si ragazzi l'evento della season 10 oramai è ovvio che sia basato sul razzo cosa fa questo razzo parte di nuovo spaccatuto crea altri rift ci porta in un'altra dimensione secondo te cosa succede scrivimelo qua sotto nei commenti mi raccomando che non vedo l'ora di leggerli ma quindi cianci alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il primo argomento che si tratta proprio del rocket vi avevo lasciato con questa immagine praticamente la prima fase del rocket ma se non lo sapete ragazzi il nuovo pezzo è arrivato quindi fase numero 2 del rocket direttamente disponibile in game come sempre è in giro che se la trovassi sarebbe una cosa fantasmagorica eccola qua ragazzi il nuovo pezzo del rocket ve lo faccio vedere prepotentemente in game mentre vi faccio vedere il rocket sappiamo già che nei file di gioco della patch 10.30 sono già stati inseriti tutti i pezzi della rocket addirittura gira un video online dove si vede proprio lo spaccato quindi il prossimo pezzo sarà il corpo centrale del missile è un rocket veramente molto molto interessante perché la base si pensa ancora sia come un rift beacon quindi la potenza che ha preso anche il rocket della season 4 e tutto il corpo è davvero identico a quello che già eravamo abituati a vedere abbiamo delle immagini bellissime però ad alta definizione questa fa parte proprio del corpo centrale come vedete altri 4 propulsori che gli permettono di dare slancio ma l'immagine più bella secondo me è questa dove abbiamo già tutto il razzo completo quindi sarà questa ovviamente la fase finale la fase numero 5 se non erro male dell'evento che ci condurrà appunto alla season numero 11 staremo insomma a vedere che cosa ha intenzione di fare questo cavolo di scienziato ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi si parla di mappa a strati e voi giustamente mi dite xyuder si si scemo si parla di mappa a strati mi fai vedere il leviatano si ragazzi si ragazzi perché il leviatano è parte integrante di questa stringa di codice che è stata trovata nel pomeriggio nel tardo pomeriggio di ieri sera come sapete ve lo ripeto un'altra volta gli sviluppatori di epic aggiungono ogni giorno pezzi di codice di fortnite anche senza bisogno di buttare giù i server quindi fanno proprio dei test c'è una sezione dedicata e i leakers giustamente li trovano guardate un pochettino ragazzi cosa sto per farvi vedere che è proprio la riga sotto sopra di me game gioco atena maps test leviathan level livello del leviatano ora io non so quanti di voi si ricordano in season 3 o 4 secondo me era la 4 quando vi avevo liccato tutta la modalità con il leviatano gigante sappiamo che il leviatano lo spazio il razzo lo scienziato il visitatore più o meno sono sempre tutti collegati c'è ancora quell'impronta dalla season 4 nel ghiaccio che si pensava fosse di un leviatano gigante anche perché anche se aveva la forma del cactus c'era già da molto prima quando il cactus ancora non esisteva e questa nuova stringa di codice potrebbe confermare che la mappa verrà modificata o ci saranno appunto dei vari livelli non si sa ovviamente siamo all'inizio ci vorrà ancora tanto per capirlo ma se qualcuno di voi ha qualche idea ovviamente è ben accetta e proseguiamo con il prossimo argomento non so se lo avete già riscattato ve ne avevo già parlato nel video di ieri il bundle di playstation totalmente gratuito è disponibile quindi ieri il video di ieri mattina non era ancora pronto al bundle nel pomeriggio è stato reso disponibile credo a tutto il mondo dovreste averlo ottenuto bellissime le gli oggetti che ci danno il la pneumatic twin il piccone la copertura un adesivo e anche uno standardo abbiamo bellissima anche l'immagine proprio della radiant blu che non è altro appunto che la copertura animata riscattate direttamente il pack se siete ovviamente giocatori da playstation direttamente dal playstation store è il celebration pack totalmente gratuito mi raccomando non fatevi scappare l'occasione di avere qualcosa in più in collezione e andiamo avanti con il prossimo argomento quello in realtà tra i più interessanti di oggi bam eccole qua ragazzi due nuove skin liccate incredibile questa cosa per un motivo molto semplice difficilmente si scoprono skin durante il periodo in cui una patch notes è già stata rilasciata mi spiego le skin si scoprono quando la patch viene rilasciata dopo pochi minuti quindi queste skin sono state aggiunte dopo probabilmente in questi giorni o altrimenti erano criptate in maniera che nessuno le potesse trovare perché magari inserite in sottocartelle che non c'entrano nulla con la cartella delle skin sono due skin molto interessanti l'alieno che ha una particolarità abbastanza visibile sul suo braccio ma anche all'altezza del cuore ha il numero 51 potrebbe essere la skin del 20 settembre 20 settembre giornata dove si dovrebbe paradossalmente fare quel ride famosissimo all'area 51 sono state coinvolte 4 milioni di persone su facebook partito questo post da due ignoranti che non si sono resi conto di aver scatenato un casino che non so neanche questi sono ancora arrestati mi sa che non li vediamo più non li vediamo più dall'altra parte invece interessante una nuova skin inserita che avevamo già visto in game sotto forma di statua arriva finalmente anche la versione femminile del love ranger non sappiamo ovviamente quando verranno rilasciate ufficialmente entrambe le skin però sono presenti nei file di gioco io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 su twitch in live ciao 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 ciao